Ciao a tutti! Chill, il messaggero della giungla, vi comunica che Oh! Tra qualche domenica farete la promessa! Allora, non saranno questo finisettimana Ma Akela, dall'alto della sua rupe Sta organizzando nuove e affascinanti, direi anche avventurose, cacce Soprattutto in vista delle promesse dei suoi cuccioli Nel frattempo K, per prepararsi al meglio, sta iniziando a cambiare pelle Bagheera sta correndo attraverso tutta la giungla per allenarsi Ed essere ancora più agile di prima Rasha, in questi giorni, è impegnata ad accudire i suoi cuccioli Per farli arrivare ancora più preparati al grande giugno! E voi? Vi state preparando al meglio? Guardate il nostro motto e la nostra promessa? Forza, tenetevi pronti Perché non appena vedete Chill volare sopra la giungla Il branco partirà in caccia Poi, nel frattempo, chiedete ai vostri genitori Magari di sentirvi con gli altri fratellini e sorellini della Sestiglia o del branco Perché, ve la ricordate? Sì la parola maestra di Rasha La forza del lupo è nel branco E la forza del branco è nel lupo Noi vecchi lupi vi mandiamo un grandissimo bacione Vi aspettiamo E se volete chiamate anche noi Ciao lupi!